Se potessi avere mille lire almas Senza esagerare sarei certo di provare tutta la felicità Allora c'è nell'aria C'è nell'aria una Strana nostalgia della lira Non so se voi la sentite Ma non so se c'è anche qualcuno che è in grado di spiegarci esattamente Che cosa ci accadrebbe se uscissimo dall'euro Io credo proprio di no E credo che insomma certi argomenti si stiano avanzando Anche perché si sta facendo un po' una prova Di che cosa si dovrà dire nelle prossime elezioni Usare argomenti forti, pugni allo stomaco Che possono fare recuperare anche terreno perduto magari Soprattutto quando Monti si dovesse arenare Nelle sabbie mobili dei partiti che lo sostengono Un po' come la corda sostiene l'impiccato E allora sentiremmo dire tante altre bugie Che ci sono state dette in passato Come per esempio quella che il nostro sistema bancario Era solidissimo A prova di bomba Non gli poteva succedere niente Adesso succede che le nostre banche Non hanno più soldi da prestare in giro E non ci hanno più nemmeno chi glieli presta Soprattutto dall'estero Per poterli prestare Ed è questo che sta diventando l'epicentro di un terremoto E che ci sta portando Forse ci ha già fatto attraversare La soglia di quella che si chiama recessione Che vuol dire poi Insomma Cavoli acidi Soprattutto per quelli Che non se la passano troppo bene Per scongiurare Il crack In questa trasmissione Era stata avanzata un'idea molto semplice Perché non proviamo A chiedere agli italiani Di comprarselo loro Questo debito pubblico Almeno una parte Diciamo perlomeno 30 miliardi Di titoli pubblici E di tenerli per 5 anni Remunerati Un po' come Vengono remunerati Alla stessa maniera I titoli tedeschi Questo avrebbe rappresentato Una grande operazione Di calmeraggio Delle ragioni Che in questo momento Ci stanno portando Sulla soglia del baratro E quello che Un grande economista Come Fitussi Ha chiamato Prestito forzoso Lo sentiremo più tardi Spiegarci che cosa è meglio Non è una tassa E quindi Avrebbe potuto fare appello Veramente All'idea Di una partecipazione civile Degli italiani Soprattutto di quelli Che hanno di più Soprattutto di quel 10% Che possiede il 50% Della ricchezza nazionale E che quindi Un po' di titoli pubblici Per 5 anni Se li poteva pure tenere là Senza che questo Rappresentasse Un grande Sacrificio Mi sarebbe piaciuto Sapere che cosa Pensava Bersani Di un'idea così Ma Bersani Non ha detto niente Non l'ha nemmeno Presa in considerazione Oggi invece Dice in maniera Abbastanza energica Ecco Monti ci deve spiegare Che cosa vuole fare E quando ce l'avrà spiegato Deve tener conto Di quello che pensa Il partito democratico Beh più o meno Quello che dice Più sommessamente Più tranquillamente Silvio Berlusconi Ma il problema Che mi pongo È questo Ma in un momento così È proprio necessario Che i partiti Siano così Nascosti Non potrebbero andare In giro Nelle piazze Nei posti come questo Insomma A spiegare Quali sono Le loro idee Per uscire dalla crisi Anche perché i tecnici Poi potrebbero Raccogliere Le migliori di queste idee Se questo non lo fanno Insomma Si crea un po' La sensazione Che queste discussioni Avvengono in luoghi segreti In cunicoli I labirinti strani Insomma Corridoi sotterrani E invece dovrebbero Insomma Un po' Andare avanti Ed essere espresse Davanti a tutti Ma io Credo Che Se si continua così Si viene a creare Un pericoloso Vuoto Un vuoto di democrazia Un vuoto di partecipazione E scusate se ve lo dico Io penso che questo vuoto Sia veramente Una cosa Molto Molto Pericolosa Che vi devo dire Speriamo che sia io A sbagliarmi